Prima di partire ecco come escono le macchine, così, questo è l'effetto, tanto effetto calamita sui vetri, guarda, anche lì, le gocce non scorrono, questo è il problema principale. Siamo qui all'autolavaggio, Heraclea Wash, questa è la lista programmi ben fatto, noi faremo il programma Platinum, la macchina che laviamo è questa qui, per cui diciamo, bella sporca. Il programma parte con emolliente Moscerini dove arriva fino a metà auto, qui abbiamo inserito PR1, 20 grammi, e nel frattempo va anche Powerwheel per i cerchi, somma totale, ci sono due pompe, 30 grammi di prodotto. Tutti i led che illuminano, fantastico, davanti nel frattempo parte la schiuma. Ecco qui F01 come schiumogeno prima della cascata e qui peschiamo esattamente 15 grammi di prodotto. Gran potenza. La data pressione sta per finire ma questo è il risultato sui cerchi. L'altra parte, shampoo spazzole e lava chassis che vedremo, eccolo qui. Lava chassis in questa parte e la parte laterale SH2 15 grammi di prodotto. di questo programma. Ecco qui già l'effetto delle SH2. L'apertura specialmente sui vetri e sulla parte piane. Ok, finito shampoo, risciacquo davanti e partenza con cera sulla parte posteriore. Qui stiamo usando in tutti i cicli acqua dolcita, risciacquo finale con osmosi, da l'ugello quello più basso e anche mescolato con la cera. 2x2 15 grammi. E ora, parte finale, asciugatura. Grazie. 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 Bene, obiettivo raggiunto. Abbiamo eliminato l'effetto calamita, il problema delle micro-gocce sulla parte bassa e laterale, lo sporco medio e residui di insetto. Ottimo, grazie. Grazie. Grazie a tutti